È stata ritrovata sana e salva intorno alle 19.30 di ieri, la maestra di 46 anni scomparsa da Tombolo. La donna è residente a San Martino di Lupari ma da qualche tempo rientrata nel paese natale, si era allontanata dall'abitazione di famiglia nella tarda mattinata di lunedì. Con sé non aveva né documenti né cellulare. Preoccupati erano stati familiari a presentare nella stessa serata denuncia ai carabinieri. Una giornata di intense ricerche che hanno visto impegnati i vigili del fuoco, i carabinieri, i volontari della protezione civile. Nel pomeriggio era stato attivato anche il COC. Nel frattempo si era diffuso il tam-tam via social fino alle 19.30. La donna per fortuna non si era allontanata da casa e aveva trovato rifugi in un edificio di famiglia nei dintorni.